E' un grande onore per me partecipare a questa Kermess organizzata dal Teatro Gesualdo di Avellino sulla fotografia. Io sarò uno dei nove fotografi che parteciperanno ad Arte in Scena 2016. Per questo ringrazio il Presidente del Teatro Gesualdo di Avellino, Luca Cipriano, che mi ha dato questa possibilità. Ognuno di noi presenterà un progetto fotografico. Questo progetto fotografico sarà esposto nel foyer del Teatro Gesualdo di Avellino e quindi ogni mostra avrà la visibilità di oltre 10.000 spettatori al mese. Questa è una delle iniziative che con il Consiglio di Amministrazione, con i colleghi Salvatore Gebi e Carmine Santaniello, abbiamo, quando ci siamo insediati, voluto ideare. Abbiamo trasformato i foyer del Carlo Gesualdo in piccole location espositive e devo dire con soddisfazione che questo progetto ha avuto continuità. Sono 53, lo dico con orgoglio, insomma, perché non è un numero da poco. Sono 53 le mostre che abbiamo ospitato al Carlo Gesualdo in quattro anni. Adesso si inaugura la quinta edizione di questa iniziativa e si cambia registro, si svolta dalla pittura alla fotografia, invitando dai primi giorni di marzo e per tutto il 2016 nove fotografi della nostra provincia e della nostra città ad esporre al Carlo Gesualdo. È un'idea che rientra in quella iniziativa di teatro aperto che noi abbiamo sempre voluto sviluppare. Abbiamo anche lanciato un concorso rivolto all'opinione pubblica e agli aspiranti fotografi, professionisti o amatori per raccontare angoli nascosti della città di Avellino. Quindi un Avellino meno conosciuto, un Avellino rilanciato dal punto di vista della bellezza e della scoperta. Credo che siano quelle attività che il Carlo Gesualdo fa perché è nella propria mission valorizzare tutto il mondo della cultura cittadino e provinciale ed sono quelle attività che andrebbero sostenute con costanza e con serenità, evitando inutili nervosismi o interruzioni nei rapporti che danneggiano tutti.